Un mini saluto da... Mino e Mina Ma prima... SIGLA! Ah, devo dire io? E bentornati nell'Agrarian Sky con Dark che ci fa da supporto da fuori quindi ci dice cosa... No, niente, no. Lui saluta e basta Zà a tutti, ciao, ciao Zà Siamo ancora qua per completare la quest dei minerali del Nether Come vedete un po' l'abbiamo completata Ah, di cobalto ce ne manca solo una Attenzione, attenzione Invece degli altri ancora un bel po' Quindi continuiamo la ricerca Purtroppo ora Dark è a casa sua nella sua isola quindi non può venirci a aiutare Peccato, è un pezzotto purtroppo Dark pezzotto Ah, ya! Ma guarda lì, ma guarda lì Lezzi, digalo, digalo Ma sono proprio lezzi questi pigme Lo sai, cosa ci manca? Ci identi a noi quando l'abbiamo ancora fatto Un arco Un arco, un arco Sono troppo forte Dov'è? Guarda, no, via, vado Prima vado ad ammazzare il ghast Vieni, vieni Vieni ghastly, vieni ghastly, vieni Vieni, ciao bello Ma non ci vediare, poverino Oh, come? Poverino gli dice anche No, no, aiuto, aiuto Non ci vedo più niente, non ci vedo più niente Attenzione Vieni, ciao bello Ciao Morto Morto Schiattato Aratto Esploso Perfetto Quel pigman ce l'ha con me Ma quei pigman ce l'hanno tutti con noi È diversa la cosa È tutto un boom, capito? Qui ora mi stanno per attaccare Guarda, me lo sento Mi arrivano da sopra L'importante è esplodere L'importante è esplodere Comunque, ragazzi Mentre cerchiamo Vi ricordo che se volete essere sponsorizzati Un'altra volta Un'altra volta Un'altra volta Due volte Se avete sponsorizzati Cioè, come fare Trovate il link sopra al video Se siete da computer A sinistra A sinistra A sinistra, esattamente O se no In descrizione Se non siete da computer Quindi vi porta al video In cui vi spiegherà come fare E se non siete ancora iscritti Ovviamente in alto A destra del video O in descrizione C'è tutto lì Quindi fate tutto Passate da La lava Via, 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 via Uffa Quindi l'avete irrigata In quanti altri video Devi dirlo No, è una cosa È una cosa nuova E quindi devo dirlo Ah, capito Boom Quanto copper manca? Ah boh Ma scusa Fate mano al submit Già fatto Ah, ok Beh Ah, lava Mi è cascata in testa Della lava Però ho ucciso Pigment Ma i Pigment Non prendono fuoco Ciao bello Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Ciao Oh, un altro Dov'è? Là giù Guarda quanti ghast Vieni, vieni, vieni Tanto ti uccide anche te Vieni, ciao Ciao bello Poco ciao Oh, ciao Oh, ne Ciao Oh, no Cobalto, cobalto Perfetto Cobalto finito Cobalto finito Eh, lo sto prendendo io Ma c'è troppa Cobalto finito Altri due Vai, vai Che questo qua Ci rimane anche a noi Perfetto Io volevo prendere L'arbite Attenzione Volevi 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 No, no, no Un altro Solo che c'è un ragno Che rompe le No, no, no Non ci identica Voi Dov'è? Ho anche il ghast Ora via Ora tutti Ora tutti Non posso dire Vi mando all'inferno Perché ci siete già Quindi Come stessi in pace Perché non puoi fare Un enchantment Della spada Che tipo Appena lo tocchi Il mostro Lo tipizzi Da tipo Da un altro giocatore Nella Una sorpresista No, davvero No, no Via Lo voglio per fare casino Tipo uno È nel nether Tu Gasti tipo Da blaze Bello Bellissimo È top davvero No, io lo voglio Lo voglio fare Il prossimo Il prossimo pack Sarà la spada di Mino Che sarà così A fare gli scherzotti Gli scherzotti Gli scherzotti Gli scherzotti pezzotti Oddio 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 Sono volati Sono volati Che casino Che casino Occhio Te morirai presto Che cosa? Casino via Via Scompare 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 Bellissimo Il occhio Te morirai presto È molto Bello Da dire Lo sai Via Via Scappare 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 Mamma mia Fugone 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 No È esploso tipo Il quarzo dovunque Ovunque Stavo per morire malissimo Mangia C'è la parola Esploso Esploso Eh lo so È così Purtroppo è così Ok Manual Submit Cobalto 100 Invece Quell'altra ancora No Vabbè Ma la redstone Non l'abbiamo presa Ma abbiamo anche L'iron a casa No Sì Vabbè Però Se l'alti non si trovano Io sto cercando Attenzione Cos'è questo Ho Lead Perfetto Lead serve Vieni Lead 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 Il lead Il lead serve per vedere Veramente Non serve Il lead Il lead serve più ombro Quindi Ah davvero Lo scopro ora Perfetto Dopo Dopo tre serie Tecniche Sui materiali Ora no Di ciò per la quest Non serve No no Però nel senso Scopro ora Che è il piombo Cioè dopo tre No no Bene Perfetto Dopo tre Pacchetti Tecnici Si scopre Cosa vuol dire Cosa è bene No ma è giusto Così Giusto così Oh 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 Non hai No 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 Esplodi Esplodi male Ci denti a te Ma guarda Ma mettono Le ragnatele Per immobilizzarti Ma guarda Come sono vabbè È ovvio Imposto furbi Ma chi è che ha inventato Questa a questa No così per dire Jade Kat L'autrice del pack Si conclude Lage Kat Salutala Degli ciao a tutti Perché lei Quartterà il tuo ritmo va perfetto potevi metterlo un pochino più facile adesso non c'è divertimento è proprio parla inglese mi sa quindi cish it's very difficult strunz ok allora ha capito ha capito perché parla sì 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 perché inglese maccheronico quindi può capire ok 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 posso spaccare un blocco ma sono tutti i blocchi che bisogna spaccare con il manilium e dov'è questo manilium bisogna farlo dal cobalto ma cobalto serve e ardite ma servono per la quest e quindi non si useranno mai ecco vieni di qua a darci una mano vieni 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 adesso arriva un momento avviso e t'ho visto t'ho visto ma ora ora muori male ora muori male non muori non vieni vieni muori ha portato ora è morto ora sei morto ma hai dato una barca ma ha dato una barca il pigman perché mi dà una barca perché anche a me anche io una barca ma perché una barca di legno con strani molto utile utilissima se ti facesse tipo navigare nella lava e invece no invece no anche no quindi proprio utilissimo non torne l'agraria c'è c'è il mare è pieno è pieno così oh eccolo oro occhio la lava e via 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 scappa 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 torniamo di qua torniamo di qua andiamo verso il portale aia aia vai giù ciao bello ciao mori male e non so se stai notando che c'è della lama scappa 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 oh salvo oh ciao ciao troppo scusa è morto 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 sei morto una tua parte è morta qui una da parte è morta lì attenzione continua a esplodere tutto ok cos'è gold e iron non si trova attenzione bastardissimo cos'è questo no niente questo è il platinum che ancora non si può prendere che non si può prendere attenzione a iron qua sotto dimidi sì dimidi sì ecco no questa è la tin mill gold dovremmo esserci perché ne ho trovato abbastanza morti tutti morti tutti morti tutti così imparate a rovinare gli episodi eccolo trovato yes torniamo a casa torniamo a caccia torniamo a caccia di qua di qua di qua di qua di qua portale poi ragazzi no ho trovato ho trovato la cospetta devo metterci spero che non mi uccida nessuno new waypoint fortezza e questa è quella buona e questa è quella buona oddio via 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 scappa 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 è da questa parte attenzione ma tutto chiuso tutto chiuso dov'è che posso passare che posso passare che posso passare devo fare un buco via scappa 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 no non si passa di qua ok te dove sei beh nel nulla allora devo trovarla io la sto cercata ma non vedo nemmeno eccolo il waypoint sono a 200 metri dov'è che si passa accidenti non c'è un buco eccolo giù via sono quasi arrivata ragazzi voli ragazzi abbiamo abbiamo schifato tutto c'è altro che è è solo qua sono qua eccomi si ma da dove salgo attenzione passiamo di sotto no dove è ecco qua sotto qui no no avevo due no non mi piace per nulla è sopra o sotto sarà salve signor mino via 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 pochino 맞ti venga qualcuno via e andiamo qua e waypoint casa sbam presa finalmente ce l'abbiamo fatta due episodi per fare questa questa ma direi che va bene bisogna sceglierne uno il laser drill che l'abbiamo diciamo e non serve l'ender thermic pump cos'è Te lo dà anche su Ender Quarry, io direi prendiamo quello? Tutte e due, è la pompa che ti estrai la roba da... Ah ok, quella cosa lì, vabbè se vuoi ti prendi prendo la bolsetta, ok, vai via, ok, andiamo subito a vedere cos'è, i cuori li mettiamo qua dentro, perché tanto poi servono, anche questa qua, Quarry la metto qua dentro, e vediamo se la bolsetta com'è, è epic, ok, via, eh, ah vabbè, buono, ci serve il liquido di quelli, perfetto, metto tutto qua dentro, perfetto, l'hai mai riguardato il punto numero 7? Il punto numero 7? 7, 7, 7, no, non l'avevo fatto, ragazzi, questo qua ci serve per fare tutti questi fluidi, questo qua si era già fatto in parte, ci mancava solo il fluidi tank che l'abbiamo fatto, quindi, guarda, prendiamo questo, cos'è? Magnesium? Serve il magnesio? Non lo so, secondo me sì... Io prenderei due di magnesio, intanto la bolsetta è da sopra, vai, quindi qui ragazzi serve solo di fare, oh, questo qua è il fluid storage monitor, ragazzi, 5 secondi si fa, Ce ne avevamo già uno, ah, ti dà anche l'ME, ok, io ho trovato la legna, quindi anche questa mod, ragazzi, è semplice, bisogna, questa è la seconda mod, mi sa, dopo la Hell's Kitchen, da fare, eh, tutta, nerdando, nerdando, cioè da fare tutte le farm, quindi anche questa qua mi sa che sarà semplice, dal prossimo episodio passeremo, mi sa, a fare le api, in maniera serrata, e così almeno anche da lì riusciremo a cavarci qualcosa, credo, no, questa qui, la bug è basic, vediamo un po', si dà? Ah, sono, ok, niente di male, niente di che... Ancora pece che buttiamo qua dentro, vabbè, peccato, e niente ragazzi, ci vediamo in un prossimo episodio, da Mino e Mina è tutto, Linea allo studio, ciao ragazzi, oh, oh, lo slime, e piove, perfetto, posto.